bonjour mon amour milanist e buongiorno noi non c'entriamo niente milanisti eh è stato il calciatore che ha detto sì eh noi non c'entriamo niente eh Gudmus Gudmus ha detto sì domenica delle palme con un sorriso perché dovevano prenderlo Gudmus trattativa avanti moncata e avanti come fanno a comprare se sono falliti come fanno a comprare i calciatori se sono falliti cos'è doveva prenderlo il Milan Juventus Gudmus il Milan trattativa avanzata per Gudmus e Pioli cosa dirà adesso a dovevamo prendere Gudmus non è colpa nostra eh non abbiamo messo i bastoni fra le ruote ha deciso lui eh solo lui ha deciso come come fanno sono falliti come fanno voi siete come i i parenti gobbili quel Milan quella Juve non ci sarà è finita è inutile che ancora spillo ti sei fatto ciulare Gudmus sono in questo modo da un Inter fallita cioè l'Inter è fallita gli ciula Gudmus a tutti quanti ma che cazzo succede ma perché non è giusto sono falliti